Estra produce circa 68 milioni di kilowattora di energia elettrica e termica da fonti pulite, con 30.000 tonnellate di minori emissioni di anidride carbonica. È il saldo ambientale verde, largamente positivo, realizzato da Estra nel 2014. Nasce Smartman, il supereroe della serie ideata da Estra, visibile sul canale YouTube del gruppo, che con ironia offre soluzioni energetiche innovative, intelligenti e vantaggiose nell'uso dei dispositivi domestici. Banda ultralarga nelle imprese e nelle abitazioni a prezzi vantaggiosi e con contratti personalizzati. È il risultato dell'accordo commerciale per il distretto industriale stipulato da Estra con CNA Prato. Estra rinnova l'accordo con l'Emporio della Solidarietà di Prato della Caritas Diocesana per la fornitura di energia elettrica nei prossimi tre anni, con copertura dell'80% dei consumi.